I tinere, ovvero viaggio, cammino, ma in questo caso anche luogo e spazio per un progetto rivolto a uomini che hanno difficoltà a controllare comportamenti o impulsi violenti di qualsiasi tipo, di natura psicologica, economica, fisica, nei confronti della donna, moglie o compagna o anche dei figli o altre persone. Operativamente si chiama CAM, ovvero Centro di Ascolto per uomini maltrattanti, cioè uomini che vogliono intraprendere un valido percorso di cambiamento assumendosi la responsabilità del loro comportamento sbagliato. Uno sportello CAM è stato inaugurato a Pescara, primo in Abruzzo. La sede si trova in Via Polacchi. Si tratta di un progetto pilota voluto dal Comune e finanziato dalla Regione. Ad illustrarcelo l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Adelchi Sulpizio e Michele Poli del CAM di Ferrara, operante dal 2014 e preso come punto di riferimento per il neonato progetto pescarese. Assessore Adelchi Sulpizio, a Pescara esistevano già da anni centri antiviolenza per donne minori, ci sono case rifugio. Oggi avete inaugurato un altro centro, il cosiddetto CAM, centro di ascolto per uomini maltrattanti. È un cerchio che si chiude in fondo, no Assessore? Sì, era qualcosa che si voleva fare da tanto tempo. Abbiamo anche detto oggi in conferenza stampa che era già dal 2004 l'anno in cui è stato fondato la rete antiviolenza del Comune di Pescara che si pensava di chiudere un po' tutto quello che riguarda la protezione della donna vittima di violenza con questo centro di ascolto per i maltrattanti. Sono passati un po' di anni, c'è anche aumentata la consapevolezza di un problema che a me è poi andato anche con gli anni ad aumentare e oggi abbiamo inaugurato questo centro. È un'iniziativa molto importante che ci lusinga come città di Pescara perché è la prima e unica in Abruzzo, fra le prime in Italia. Siamo convinti che potrà essere anche una risposta anche concreta sempre con l'obiettivo di proteggere le donne vittime di violenza. Assessore, il centro di Pescara sarà a carattere regionale? Sì, ricordiamo che sono fondi prevalentemente regionali e sarà il primo in Abruzzo e soprattutto darà un supporto a tutta la problematica riguardante l'intera regione. Infatti siamo contenti che il nostro braccio operativo di questo progetto sia il CAM di Ferrara che abbiamo scelto perché è un CAM che già da diversi anni, da molti anni fa questo tipo di attività e in realtà ci darà sia un supporto effettivo, concreto nei confronti di quelle persone che verranno assistite, nei confronti di quegli uomini maltrattanti che verranno assistiti, ma ci darà anche un supporto formativo in quanto gli operatori sociali che oggi operano avranno un aiuto, una forma di formazione perché è una tematica nuova e una tematica che va affrontata da persone esperte. Ricordiamolo perché è importante uno sportello a cui ci si può rivolgere gratuitamente. Certo, è uno sportello gratuitamente dove potranno rivolgersi. Sia gli uomini che consapevolmente prendono atto di questa problematica e quindi rendono conto che hanno bisogno di un aiuto per uscire ai media questa forma di violenza nei confronti della loro parte, nei confronti della moglie. Anche le donne possono rivolgersi. Perfettamente, anche le donne chiedendo in una fase, nel momento in cui dovessero riscontrare che ci sono anche atteggiamenti da parte del compagno, del partner, del marito aggressivi. Ricordiamo che l'aggressività non è soltanto fisica. Noi abbiamo anche oggi dei dati in cui la violenza può essere anche di carattere psicologico, l'abbiamo spiegato anche nel corso oggi della presentazione. In questi casi anche la donna può chiedere aiuto in favore del partner, però diciamo anche a chi ci sta ascoltando, attenzione, dove il CAM non esclude il ricorso alle forze di polizia, precisiamolo. Quando c'è bisogno di aiuto, il codice rosso, che è la nuova normativa, consente che lo Stato ti dia una relazione imminente, immediata, proprio a proteggere anche la donna vittima di violenza. Quindi diciamo che tutta la rete violenta, la rete che protegge la donna, quindi che ha il Comune di Pescara dal 2004, è una rete che continua a esistere, anzi è stata ulteriormente implementata, quindi dove c'è l'urgenza interverrà sempre. Il CAM di Pescara, lo ricordiamo ancora, è un progetto innovativo, un progetto pilota. Qual è la sua durata? La durata è a fine, diciamo che fino a fine anno e anche qualche mese del 2022, ma in realtà con il CAM di Ferrara. Il CAM di Ferrara ci darà una mano proprio in questa prima fase, perché bisogna anche avere l'umiltà di dire impariamo da chi è più bravi di noi, impariamo da chi da più tempo sta svolgendo questa forma di attività. Dopodiché noi da fine anno il servizio continuerà, i nostri operatori dovranno anche imparare, esco perché dicevo prima ci saranno corsi di formazione, in maniera tale che i nostri operatori, tutti gli operatori del mondo sociale potranno dare assistenza e aiuto. Assessore, quindi lo strumento esiste, è importante, però in fondo bisogna avere poi la piena consapevolezza di voler veramente cambiare, di mettersi in discussione, cosa non facile. Sì, logicamente noi adesso abbiamo offerto questo strumento sia in favore degli uomini che volontariamente, delle famiglie che vogliono chiedere aiuto, ma soprattutto nel mondo immaginiamo delle autorità pubbliche, della questura, che in alcuni casi proprio ha bisogno di mandare eventualmente anche i casi di stalking oppure i casi di codice rosso direttamente le persone al CAM o il tribunale, immaginiamo una pena all'interno della figura della rieducazione della persona del condannato, la funzione rieducativa della pena potrà essere svolta anche all'interno di questi centri con l'aiuto di questi operatori. Io il messaggio che voglio dire anche a chi ci ascolta è che la violenza alle donne, noi dobbiamo essere contro la violenza sulle donne, non solo l'8 marzo che è la festa della donna o il 25 novembre che è la data mondiale contro la violenza sulle donne, ma 365 giorni all'anno. Oggi ho lanciato quell'hashtag nel corso a conferenza stampa, non la violenza delle donne 365 giorni all'anno, perché poi va bene illuminare il campanile di rosa l'8 di marzo o il 25 novembre oppure colpitturare una panchina, ma poi per debellare questo fenomeno che ahimè tende ad aumentare, questo è il fatto grave ancora nel 2021, abbiamo bisogno di iniziative concrete, abbiamo bisogno di porre in essere delle misure concrete e con questo progetto andiamo a chiudere un po' il cerchio della rete antiviolenza di cui Pescara sin dal 2004 aveva capito l'importanza e quindi andiamo a mettere anche un ennesimo tastello, una problematica in cui noi ci siamo e la vogliamo debellare. Michele Poli, CAM Ferrara, intanto come è nata questa sinergia? È stato il Comune di Pescara a scegliere voi o avevate già dei rapporti precedenti? Avevamo già dei rapporti precedenti, avevamo fatto alcune iniziative assieme e quando si è trattato di pensare a questo progetto il Comune ha pensato a noi, quindi ci ha scelti. Lei è un operativo e allora le chiedo come funziona un CAM, centro di ascolto dedicato agli uomini maltrattanti, cioè ai carnefici? Sì, si tratta di un centro che ha una linea telefonica a cui sia gli uomini possono telefonare che eventualmente anche la rete e le partner per avere informazioni su come inviare il maltrattante, poi il maltrattante ha accesso a una serie di colloqui individuali che servono a rilevare il rischio di recidiva, che servono a rilevare la pericolosità dell'uomo e a motivarlo al percorso. In questi colloqui individuali chiediamo anche l'autorizzazione a contattare la partner, di modo che possiamo avere anche l'avversione, se la partner desidera aderire, vedendolo una volta, possiamo avere anche l'avversione di lei e sapere anche quanto secondo lei è a rischio di violenza e così lei può restare anche in contatto con noi e noi sappiamo se l'uomo reitera o no. Dopo questa fase l'uomo viene preparato ad entrare in gruppo e dentro questo gruppo, che è condotto da un uomo, un'operatrice uomo, un'operatrice donna, l'uomo può confrontarsi con altri uomini che hanno fatto reati simili al suo e quindi può elaborare i suoi comportamenti errati, tenendo conto che sempre noi trattiamo gli uomini in maniera dignitosa, rispettosa e li consideriamo a nostri pari, ma semplicemente mettiamo in discussione gli atti violenti che hanno compiuto. Questo percorso quanto può durare? È chiaro che ci sono delle differenze a seconda dei casi, però mediamente? Diciamo che un percorso minimo lo definiamo di un anno. Nel giro di sei mesi, in genere, a ritmo di incontri settimanali, in genere si interrompono le violenze fisiche, ma per quelle psicologiche serve almeno un anno perché sono più difficili per l'uomo da riconoscere e perché sono più quotidiane, meno gravi a volte, se non sono continuative, e quindi serve almeno un anno, a volte anche di più, insomma, e quindi i percorsi si adattano poi all'uomo. Come CAM di Ferrara voi operate da circa otto anni, quindi avete raccolto tanti dati, cosa ne fate? Utilizziamo i dati che raccogliamo sia per il lavoro interno, per comprendere se il nostro lavoro è efficace, che tipo di lavoro stiamo facendo e poi i dati li restituiamo alla città per che ci sia un report di ciò che stiamo facendo e anche la città sappia del lavoro che andiamo a fare. Poi ce li confrontiamo tra i diversi centri e in particolare il CAM di Ferrara ha seguito anche un programma che si chiama Impact, per cui il lavoro del centro di Ferrara è stato valutato da un'università inglese per valutarne l'efficacia e quindi i dati hanno molteplici valori. C'è una tipologia di uomini che si rivolge a voi precisa? Non c'è una tipologia precisa, noi accogliamo uomini che vanno dall'età di 23 anni fino a 85, raccogliamo uomini di tutte le estrazioni sociali e di tutti i tipi, insomma. Quindi non c'è purtroppo un modo di essere violenti. Diciamo che ci sono delle cause che stanno all'interno dell'educazione maschile, che stanno all'interno della società, una società che ancora ha dei retaggi maschilisti e che spesso molte cause derivano dall'essere stati dentro a nuclei familiari violenti per cui si finisce per riprodurre quella violenza che si è respirata in ambito familiare. L'emergenza sanitaria in cui ormai da più di un anno stiamo vivendo, in cui viviamo, ha incrementato i casi di violenza? Dal nostro punto di vista non abbiamo riscontrato questo aumento, ma noi abbiamo numeri bassi e soprattutto forse la pandemia ha forse limitato l'accesso degli uomini, però nel nostro caso al nostro centri. Però nel nostro caso hanno continuato ad arrivare nella stessa maniera di prima. Qual è la difficoltà più grande che un uomo maltrattante ha di rivolgersi a voi? Beh, deve accettare che è lui quello che sbaglia, accettare che è lui che sta facendo proprio quello che in altri non ha mai sopportato. Questo è un passaggio molto difficile, perché è facile vedere i difetti delle altre persone, ma riconoscere i nostri e soprattutto chiamarli con il nome di violenza, di atti violenti, è un passaggio che tutti noi facciamo fatica a fare per quello che ci riguarda. E quindi spesso gli uomini che arrivano lo fanno soltanto dopo aver fatto delle violenze fisiche, perché quelle sono evidenti. Ed è solo allora che capiscono di avere un problema. Si può parlare di prevenzione in questo ambito, cioè nell'ambito di manifestare la violenza di un uomo? Sì, si può parlare di prevenzione, perché possiamo anticipare le violenze degli uomini appunto con dei lavori che ne portino a consapevolezza. Non è necessario avere fatto violenza per venire al nostro centro, ma basta temere di farla o avere il dubbio di farla. Inoltre noi adesso entreremo a lavorare anche nelle scuole per fare prevenzione con questo progetto e in più, come dire, non forse nel breve periodo, ma inizieremo a lavorare anche direttamente sulla paternità per evitare che nel momento in cui stanno per nascere figli, cosa che accade purtroppo spesso gli uomini operano violenza perché vanno in difficoltà, non sono più i protagonisti della vita familiare e non sanno prendersi cura restando un po' da parte. Riuscite anche a ritrattare per una seconda volta atteggiamenti recidivi? Sì, purtroppo a volte succedono, non in genere negli uomini di lungo percorso, ma all'inizio del percorso può succedere che ci siano recidive, in genere meno gravi degli atti precedentemente colpiuti, quando avviene chiediamo all'uomo di dircelo, di raccontarcelo, oppure ce lo segnalano appunto la partner o la rete antiviolenza, ci informa di questo e noi andiamo a ritrattare l'uomo e comunque magari possiamo pensare di prolungare il percorso presso di noi visto che non era stato sufficientemente efficace. L'ultima poli, prima abbiamo parlato di tipologia, per quel che riguarda l'età, chi si rivolge a voi? Eh no, sono soprattutto uomini di mezza età, perché quella è un'età in cui gli uomini incominciano a capire che certi sbagli che hanno fatto non dipendono solo dalle partner, ma a forza di reiterare comportamenti sbagliati incominciano a capire che qualcosa non va nelle loro vite, nelle loro scelte e quindi soprattutto sono uomini di mezza età, però arrivano di tutte le età.